signore e signori buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di radio tele appennino parma questa sera partiamo con una notizia che riguarda il che sembra che questa sera debba arrivare la neve anche un po in quantità qualche decina di centimetri 10 15 20 poi dipende vedremo come sarà e abbiamo sentito il sindaco di bedogna giampaolo serpagli per capire come si sta organizzando bedogna è uno dei paesi di confine del nostro territorio a cavallo tra le vali del taro e del ceno siamo in videochiamata con il sindaco di bedogna giampaolo serpagli un sindaco di confine quindi è uno dei territori anche più alti della nostra provincia sono le tre del pomeriggio qual è la situazione neve sappiamo che attualmente non c'è ancora più di tanto un po di neve sul penna ma niente però questa notte si pensa che arrivi quale qual è la situazione come state preparando ma noi siamo già in pista da un po di tempo nel senso che la nostra valceno la nostra parte di valceno da qualche giorno insomma è soggetta a gelate e ieri anche a discreta nevicata sui passi quindi ci siamo naturalmente mossi come d'abitudine con i nostri appaltatori con i nostri con i nostri mezzi anche se i nostri mezzi per poco perché con i nostri mezzi copriamo più che altro la parte diciamo centrale del paese i nostri appaltatori devo dire che non hanno riscontrato particolari problemi e naturalmente siamo organizzati per questa notte perché tutte le previsioni compreso quelle della protezione civile ci danno allerta meteo per neve appunto per domani e li danno anche a delle quote abbastanza basse quindi naturalmente non ci daranno segnalazioni di gelate quindi questo è già un bene ma ci danno solo segnalazioni di nevicate non copiosissime ma insomma sarà probabilmente la prima nevicata che coprirà un territorio più vasto e non solo diciamo le parti sopra gli 800 metri come in questa settimana passata siamo stati abituati a vedere. Poco fa c'è una retta fa c'è avuto un'immagine un video da Berceto che stava snevischiando e c'era un po' di copertura Bedogna ancora niente immagino perché sono 200 metri più sotto? No Bedogna niente oggi niente ieri io ero naturalmente alla messa di San Antonio ad Anzola infatti mandiamo un servizio nel Tg di questa sera dopo lo vedranno insomma nevicava abbastanza copioso ma insomma nevicate che per noi non sono niente di stupefacente è stato più stupefacente il tempo che abbiamo avuto fino ad oggi. Queste invece le immagini che sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi attorno alle 14 da Berceto dove la neve aveva già iniziato a scendere ma vediamo adesso con le previsioni del tempo quale dovrebbe essere il quadro questa sera e quanta neve dovrebbe scendere soprattutto da dove a dove? Sembrano essere confermate le previsioni meteorologiche che abbiamo già accennato nei giorni scorsi in particolar modo ieri che parlano di neve a zone pedemontane del nostro appennino ma da dove dovrebbe iniziare a nevicare in su? Ebbene lo scopriamo da questa immagine che arriva dal sito ilmeteo.it che ci ha autorizzato a utilizzare le sue informazioni e vediamo che nella zona di collecchio per la giornata di domani è prevista neve a partire dalle 4 della mattina ma come vedete qua gli accumuli sono previsti tra 0 e 4 0 e 5 centimetri però c'è una grossa incertezza quindi potrebbe essere anche che di neve nella zona di collecchio non ne arrivi per nulla questo ovviamente è una previsione nella giornata di domani. Ci andiamo a vedere invece poche decine di metri più su da un punto di vista della altezza sul livello del mare e andiamo a Fornovo vediamo che qua invece l'incertezza del da 0 a 4 5 centimetri si trasforma in certezza almeno per una parte della giornata infatti vedete dalle 7 della mattina dovrebbero iniziare a cadere sulla terra quasi una decina di centimetri in poche ore per poi nel pomeriggio rilasciare lo spazio all'incertezza con altre quantità di neve. Se saliamo ancora di più sul nostro appennino andiamo ad esempio nella zona di Berceto vediamo come la neve già inizierà a cadere nel pomeriggio di oggi soprattutto questa notte con deboli nevicate di pochi millimetri ora per poi arrivare a nevicate più importanti e consistenti nella giornata di domani che potrebbero portare a un accumulo sul terreno anche qui di una quindicina di una ventina di centimetri scendendo un po più in basso nella zona ad esempio di Borgo Valditaro anche qui la neve dovrebbe arrivare nella giornata di domani con una quantità inferiore però sappiamo che in questa frangente non è così facile centrare in maniera così dettagliata le previsioni meteorologiche. Andiamo invece a dare un occhio alla zona di Bore perché qua c'è una cosa particolarmente interessante anche qua domani neve prevista attorno a una decina una quindicina di centimetri ma la cosa impressionante sono le temperature nella zona di Bore come vedete per questa notte sono previsti per la notte prossima meno 4 un grado per la giornata di domani per la giornata di venerdì si toccheranno i meno 11 gradi di notte temperature davvero più che polari e temperature del genere sugli 835 metri di altezza di di Bore sono previste fino alla giornata di lunedì come vedete la minima di venerdì è meno 11 quella di sabato meno 9 quella di domenica meno 11 quella di lunedì meno 10 per poi vedere se la settimana prossima un po le temperature dovrebbero crescere ma rimangono sempre pesantemente sotto zero di notte sopra gli 800 metri di Bore. Ovviamente sono previsioni del tempo quindi certezze assolute non ce ne sono vediamo lo scopriremo domani e scopriremo com'è andata e quanta neve è venuta comunque sicuramente una questione relativa alle neve c'è perché anche la regione come vedete dall'immagine ha emesso un allerta gialla per neve nei territori colorati di giallo ovviamente ce ne saranno meno in pianura di più un po in montagna. Adesso parliamo di un altro argomento spinoso che non riguarda purtroppo solamente il territorio appenninice del parmese ma anche il capoluogo della nostra provincia così come purtroppo anche tutta Italia. Ebbene per feder consumatori le spese dei parmessi nel 2022 aumenteranno di 2884 euro per famiglia con una famiglia di tre componenti. Gli effetti di lunga durata della dinamica inflattiva registrati durante il 2022 a fronte del rallentamento degli incrementi dei prezzi dell'ultimo trimestre determinano una variazione media annuale di più 7,6 per cento un dato che non si rivelava dagli anni 80 quando però c'era la scala mobile che faceva un po da scudo nei confronti delle famiglie aumentando gli stipendi ma questo aumento degli stipendi però non c'è stato anche se abbiamo visto che negli ultimi due mesi c'è stato un po un calo dell'inflazione. Un aumento dovuto al costo dei carburanti, dovuto al conflitto in Ucraina con l'aumento dei costi dei gas cereali e varie materie prime così come anche le uove, il latte, insomma è aumentato un pochettino tutto. Per ciò che riguarda Feder Consumatori fa presente attraverso il suo responsabile Fabrizio Ghidini che è stato un anno terribile per i consumatori della nostra provincia. Il modesto decremento dell'ultimo mese non cancella di certo il segno di un'inflazione elevatissima che ha fatto e sta facendo scempio dei redditi di lavoro dipendenti e da pensione. In questo contesto la diffusa percezione che l'inflazione reale sia superiore a quella istazio fa strada. In effetti il 2022 è l'anno della forbice, ci riferiamo alla forbice delle disuguaglianze e continua ad allargarsi perché siamo di fronte a un'inflazione selettiva, quella che colpisce soprattutto le famiglie, le persone già deboli e il ceto medio, sempre meno medio, mentre crescono i distacchi delle utenze di morosità e i salari arretrano pesantemente ma fanno peraltro crescere gli utili alle aziende che operano nel settore dell'energia, dei farmaci e della grande distribuzione. Paradossalmente crescono anche i consumi di lusso, abbigliamento e vacanze. Quindi insomma una situazione che è perlomeno preoccupante. Adesso andiamo all'Anghiano per parlare ancora delle manifestazioni contro l'apertura di uno stabilimento ai piedi del castello di Torrechiara. Bene, direi che da ringraziare l'organizzazione, la manifestazione sembra molto riuscita, molta partecipazione. Finalmente direi che la gente comincia a muoversi massicciamente per un tema che è quello del suolo, la difesa del suolo e del paesaggio su cui un po' di anni fa si faceva veramente fatica. Si vede che ormai abbiamo raggiunto dei livelli di consumo di suolo veramente insostenibili e ci vuole una certa ostinazione, una certa ostinazione ideologica per non rendersene conto. È un modello di sviluppo che ormai non ha più futuro e fa piacere vedere che molta gente si muove in questa direzione. Purtroppo non tutte le battaglie sul territorio stanno riuscendo, alcune sì, fa piacere vedere che fonte vivo abbiamo ottenuto dei risultati, per adesso anche Torrechiara non abbiamo l'autorizzazione per questo insediamento, c'è la situazione difficile di Medesano. Purtroppo a Parma in comune abbiamo avuto l'approvazione di un insediamento di un polo logistico di 11 ettari dove in realtà si poteva, come qui a Torrechiara e a qui a Ranghierano, trovare altre soluzioni di rigenerazione urbana. Quindi c'è un interesse forte, la politica deve fare di più per raccogliere queste richieste da parte dei cittadini. L'intervista che abbiamo mandato era un'intervista ad Enrico Attolini del Gruppo Verde del Consiglio Cumulare di Parma con un servizio di Giorgio Torri. Adesso torniamo sull'altro appennino, quello della Valtaro-Valceno, per parlare ancora del punto nascito di Borgo Valditaro, qualche spiraglio forse potrebbe esserci. Nei giorni scorsi c'è stata la visita di una funzionaria del Ministero della Salute di un'altra Valtaro che ha visitato anche l'ospedale. Abbiamo anche reso conto di un intervista che abbiamo realizzato nei suoi confronti una parte e poi le altre le metteremo. Poi oggi vi facciamo ascoltare le parole di uno di quelli che hanno organizzato questo incontro e questa visita all'ospedale di Borgotaro. Parliamo dei coordinatori di Fratelli d'Italia di Bedogna, Fausto Moglia. Vediamo cosa ci ha raccontato. Siamo in videochiamata con Fausto Moglia, coordinatore per Fratelli d'Italia dalla zona di Bedogna. L'abbiamo sentito perché nei giorni scorsi è arrivata una funzionaria del Ministero della Salute in Alta a Valtaro, invitata proprio dal Circolo di Bedogna. Perché questo invito, Fausto? Questo invito, siamo partiti come Circolo per cercare di fare qualcosa per la nostra zona e questa è stata una delle prime cose che abbiamo voluto fare. Abbiamo avuto l'opportunità di sentire la dottoressa Valeria Grasso a Roma al Ministero della Salute. L'abbiamo sentita, ci ha ricevuto subito l'indomani mattina. Quindi siamo partiti, siamo andati a Roma e si è dimostrato disponibile venire a parlare nella nostra zona e vedere com'era la situazione del nostro ospedale e in primis del punto nascita. Ti chiedevo anche poi che partecipazione c'è stata, hanno detto che c'erano anche alcune autorità. Purtroppo noi abbiamo invitato tutte le amministrazioni, tutti i dottori, tutto il servizio sanitario generale. Purtroppo devo dire che la partecipazione, a parte il sindaco di Borgotaro, è mancata, soprattutto dell'istituzione, con la parte il comandante della casera dei Carabinieri, il Bedone, che devo dire hanno fatto un ottimo servizio. E cosa è uscito da questo incontro? Quali i punti più importanti? Dunque, con la dottoressa siamo andati direttamente all'ospedale, che ha trovato una bella struttura, detto da lei, e un meraviglioso punto nascita che si è dimostrato in quel momento tutto aperto, funzionante. Purtroppo solo nella pratica, come evidenza del momento, ma ufficialmente chiuso, quindi non ci saranno, non possono esserci nascite, ma la struttura era tutta accesa, pulita, funzionante, eccetera, è quello che la dottoressa ha notato e fatto notare. Comunque si è dimostrato disponibile di portare il problema direttamente al ministro, e nonostante poi ci sarà da vedere il discorso con la regione. La sanità è un'operativa della regione, certo, quindi se ci sarà un'ulteriore richiesta dalla parte della regione, da parte del ministero c'è tutta la disponibilità possibile per... Ok, quindi come lo siete lasciati con la dottoressa? Ci siamo lasciati che adesso lei con quelle testimonianze, con quello che è riuscito a raccogliere, eccetera, ne parlerà direttamente con il ministro, poi probabilmente cercheremo di fare un incontro col presidente della regione per cercare di trovare un punto di incontro. Io spero che non tutto sia perduto per la nostra zona e per il nostro punto nazionale. Ora andiamo con una notizia breve, andiamo a Medesano, meglio nella sua frazione di Felegara, dove nella giornata di giovedì prossimo, dopo domani 20 di gennaio, parte la Sagra di Sant'Agnese che dura molti giorni, quasi due settimane. Ebbene, la partenza è al Teatro Tanzi, con la compagnia teatrale della Proloco di Fornovo, con un pezzo che si chiama Questo matrimonio non sa da fare. A Collecchio ci si sta preparando per il giorno della memoria e l'amministrazione comunale ha deciso di presentare il film di animazione Anna Frank e il diario Segreto, che è in programmazione per venerdì 27 gennaio al Teatro Crystal. Il film prevede una doppia proiezione nella stessa mattinata in via riservata e gratuita per le classi delle scuole secondarie di primo grado di Collecchio della Galaverna, mentre alle 21.15 è aperto l'ingresso a tutti con prezzo di biglietto di 5 euro. Ora andiamo a Varano-Melegari perché un intervento della Polizia Postale per parlare dei problemi legati ai social per i minori c'è stato presso le scuole medie dell'Istituto Comprensivo Valceno, proprio come dicevamo a Varano-Melegari. Isabella Bozzuppi ha intervistato una ragazzina che ha assistito e ascoltato le parole di questa ispettrice della Polizia Postale. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Camilla Gatti. Allora, questa mattina avete avuto una visita molto interessante a scuola. Ci vuoi dire chi è venuto e di cosa ha parlato? È venuta la Polizia Postale di Parma, in particolare quella che ci ha spiegato è stata, si chiamava Giuliana Pavia, ci ha parlato del cyberbullismo, del bullismo e della pedofilia. Ai ragazzi è stato spiegato che il bullismo non è solo triste riceverlo, ma anche farlo. Sono stati riportati numerosi esempi di quelle che possono essere le conseguenze su chi subisce bullismo. È stata anche spiegata la differenza fra il bullismo e il cyberbullismo. Mentre nel bullismo vi è uno scontro diretto e quasi sempre gruppi di persone contro un unico individuo, nel cyberbullismo spesso invece è un'unica persona che si nasconde dietro i social nell'applicare il cyberbullismo in questo caso. Il cyberbullismo implica l'utilizzo quasi sempre di immagini e di parole che spesso possono ferire di più di quello che invece viene fatto da bullismo o bulli più nel mondo reale. Altro pericolo dal quale i ragazzi sono stati messi in guardia è la pedofilia. Non solo quelli che possono essere sfruttamenti tra maggiorenni e minorenni, ma anche ricatti a scopo economico. Un esempio che è stato fatto di una ragazza che ha tratto in inganno un ragazzo, inducendolo a spogliarsi, fotografandolo e ricattandolo, minacciandolo di divulgare le fotografie qualora lui non avesse dato dei soldi alla ragazza. Ora ci spostiamo un po' più a valle, andiamo a Fornovo per parlare, per vedere un pezzo dell'intervista che ci ha rilasciato il sindaco di Fornovo, che tra qualche giorno troverete così come tutte quelle degli altri sindaci online sul nostro canale YouTube di TG Parmense, e che comunque è parte di un progetto che stiamo portando avanti, che vede la parola ai sindaci del nostro territorio, di tutto il Parmense, domani sera ci sarà la prima parte dell'intervista al sindaco di Compiano, Francesco Mariani. Adesso vediamo un pezzo dell'intervista al sindaco di Fornovo, Michele Azzanetti, che peraltro ci racconta se ha o no dei rimpianti sul Fornovo del passato. Cosa rimpiange nel passato? Non ci sono rimpianti, io rimpiango le persone, le persone che non ci sono più, quelle che sono state significative per il paese, che si sono spese, ce ne sono tante, e non ne nomino nemmeno una per non far torto a nessuno. E ci sono appunto dei personaggi pubblici che sono stati veramente significativi, hanno dato tantissimo, e poi ci sono le altre persone, quelle che fanno parte dell'essere una comunità, quelli che hanno sempre reso vive le nostre giornate, quelli che ci sono spesi nel volontariato, quelli che ci sono stati e hanno rappresentato qualcosa che adesso non c'è più, e del quale si sente la mancanza. Io non sono dell'idea che morto un papa se ne fa un altro, oppure si fanno, si fa meno di qualcuno. Ci sono delle persone, le persone nella loro unicità ci lasciano qualche cosa. Ecco, nella Fornovo Vecchia sono le persone, le persone che si sono spese, le persone che abbiamo conosciuto e cui abbiamo voluto bene. Magari a volte ci hanno fatto anche arrabbiare, però abbiamo voluto bene. Ora andiamo in Alta Valceno, andiamo ad Anzola, perché ieri un tradizionale importante appuntamento si è ripetuto in occasione della festa di Sant'Antonio, patrono degli animali. La pioggia è scrosciante, come avete sentito da queste immagini che disturbavano addirittura la ripresa dell'audio della benedizione di Domino Ferrari in località Anzola di Bedogna. Dicevamo la pioggia non ha scoraggiato i tanti amanti degli amici a quattro zampe che hanno voluto festeggiare assieme ai loro amici quattro zampe la festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Una festa molto sentita in particolar modo in Alta Valceno, in località Anzola, nel territorio comunale di Bedogna, si è tenuta come da tradizione la famosa e apprezzatissima festa di Sant'Antonio. Una festa che è stata celebrata nella giornata di ieri, presente anche Monsignor Lino Ferrari per fare la benedizione tradizionale degli animali, con tantissimi amici a quattro zampe presenti, tantissimi cani, anche qualche cavallo, ma soprattutto tantissimi cittadini. Pensate, più di 1500 persone solitamente affollano le vie e le piazze della bellissima località di Montagna di Anzola per l'occasione di questa sentitissima festa dell'Appennino. Soprattutto una festa apprezzata e molto sentita grazie alla benedizione degli animali che arriva proprio dalla tradizione di Sant'Antonio Abate. Una festa che ha cambiato un po' la fisionomia perché se un tempo, in periodo antico, quando la vita delle persone dipendeva dal lavoro, ma soprattutto anche dalla carne degli animali che allevavano, oggi invece è diventata una festa per benedire non gli animali che davano la vita al lavoro e il cibo alle persone, ma che danno affetto e compagnia. Anche questo è un aspetto della trasformazione della nostra società. Il telegiornale dedicato alle notizie finisce qui, ma vi ricordiamo che oramai da un po' di tempo, dopo la pubblicità, tra qualche decina di secondi, c'è un secondo telegiornale dedicato alle curiosità, alle notizie relative allo sport e alla cultura. Quindi a tra poco. Moranoleggi a Fornovo Taro Pale e turbine per sgombero neve in aree private e pubbliche Moranoleggi a Fornovo Taro Elettro Taro Fornovo Frigoriferi design anni 50 Vasta gamma di elettrodomestici Televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione A Fornovo di Taro In via nazionale 127 Al Molino Market abbiamo rinnovato lo scaffale dei vini Ampliato i prodotti del territorio E aggiunto prodotti ecologici per la pulizia della casa e della persona Bombole del gas ed edicola sempre presenti A parti tutti i giorni dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 Elettromeccanica Valfer Allemignano di Collecchio Strada privata del commercio 13 Savio Di sbrigo e pratiche Sala del commiato Reperabilità 24 ore su 24 Savio A Varano Melegari E Varsi Gruppo OppiMitti Oltre 60 anni di attività Al servizio di privati e denti pubblici Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività Seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese Gruppo OppiMitti Per la valorizzazione delle risorse umane E la crescita territoriale OppiMitti Un gruppo che opera Nell'ambiente Per l'ambiente Voi vi direte Come sono i prezzi da Baudassi nel 2023? Sono sempre più bassi Un esempio Macchina Caffè Espresso Con cialde ad euro 59 Cucina a legna nordica A partire da 599 Cassettiera Portutensili T-Torch Ad euro 189 Ditemi voi Baudassi I prezzi sono sempre più bassi E' evidente Quando hai bisogno di un apparecchio acustico Vieni a provare i nuovi apparecchi Nel nuovo centro Acoustic System A Borgotaro In via Corridoni 38 Ne combiniamo di tutti i colori Ma solo con il tintometro Da tutto Casa Varsi Casalinghi e Ferramenta Continua anche la promozione Sulle stufe a pelle e legna Ottica San Viti Il benessere dei tuoi occhi E la cura della tua immagine Specializzati in Visione binoculare Lenti orto K Montature Personalizzate Ottica San Viti A Ramiola AB Global Service A Madregolo di Collecchio Vasta gamma di servizi Dalla manutenzione del verde Asfaltatura Manutenzioni stradali Servizio di pronto intervento Movimento terra Demolizioni Lavori edili Sgombero neve E lavori agricoli Bentornati Intanto iniziamo come di consueto Nel raccontare la programmazione Della nostra rete Alle 20.35 in tv I piaceri della vita Alle 21 il ciclo Arturo Curà Attualità Attualità Alle 22 Atas Alle 22.30 Alla replica del nostro telegiornale Alle 23 Bala che ti passa A mezzanotte Rivediamoli Vi ricordo qui anche L'appuntamento di domani Alle ore 14.45 In diretta Sulla nostra rete Parmese in diretta Sarà in diretta anche Su Facebook Se volete intervenire Lo potrete fare Così come anche su Youtube Quindi un altro programma Che portiamo avanti Che poi verrà replicato La sera Assieme a come Diamo detto anche in precedenza A parola al sindaco Con il sindaco di Compiano Francesco Mariani La prima parte dell'intervista E adesso Diamo la parola A una valtarese In trasperta Monica Pellerano Che come sapete Vive negli Stati Uniti O meglio Vive tra gli Stati Uniti E l'alta Valtaro E ci sta dando Delle pillole Di cultura americana O di curiosità Dagli Stati Uniti Oggi Parliamo di un argomento Importante E controverso Quello dell'uso Delle armi da fuoco In questo territorio Vediamo Quali sono le norme E le regole Con l'intervista Che ha realizzato Monica Pellerano In Arizona Molta casualità Oggi Ho scoperto Che qui a Scozio Esiste un club Che vende Armi Ai liberi cittadini Che ovviamente Ne richiedono Per un uso Personale E ce ne sono diversi Però Fatalità Io non ne avevo mai sentito Parlare Oggi così Uscendo da un Da un ristorante Mi sono trovata Di fronte a questo club In curiosità Sono entrata E ho cercato Di parlare Con il manager Che vedrete Fra poco Così per capire Un attimo Come funziona Volevo così Dire due cose Proprio sull'Arizona Che da sempre Viene riconosciuta Proprio per essere Uno degli stati Più favorevoli Alla detenzione Di armi Lo stato dell'Arizona Non solo onora Il secondo emandamento Della Costituzione americana Che prevede Il diritto Di detenzione Di armi E il diritto Di difendersi Ma addirittura Ne celebra Una cultura Che trova Le sue radici Note Nella storia Di questo stato Ho chiesto a Ron Kennedy Il direttore del club Se è vero Che chiunque Possa veramente Recarsi nel negozio E acquistare Un'arma E se il club Provvede Ad un addestramento Per chi lo richieda Ron ci risponde Che sussistono Dei requisiti Perché questo avvenga Innanzitutto La residenza Nello stato dell'Arizona Una fedina penale Immacolata E una ricerca Accurata Del passato Dell'acquirente E addirittura Previa compilazione Di una documentazione Dettagliata e precisa È possibile La spedizione Anche in altri stati Ron prosegue Dicendo che ci si può Recare al club Anche solo per sparare E provare Diverse tipologie Di armi Hanno ben 34 corsi diversi Per principianti Per donne Che richiedono Di imparare Per difesa personale Oltre alla vendita Di moltissimi modelli Di pistole Fucili E una tecnica Che può addirittura Essere utilizzata Per l'intrattenimento Che si chiama Cosmic shooting Praticamente Una sparatoria Illuminata Di luci laser Che illuminano La notte E spesso Vengono accompagnate Da musica E ambiente Addirittura Da discoteca E con questo Siamo giunti al termine Nel consueto Appuntamento Con l'informazione locale Vi ringraziamo Per l'attenzione Che ci avete concesso Vi diamo appuntamento A domani pomeriggio Alle 14.30 Per mese in diretta E poi domani sera Col telegiornale Alle ore 19 E vedremo come sarà Per la neve Di mani pomeriggio Di mani pomeriggio A domani come sarà